Donami Gesù di aprirmi al tuo amore. Parole dal cuore, pensieri, canti ed emozioni con Don Lucio Giacintucci e Nando Marinucci che vi parla. A Don Lucio Giacintucci la preghiera d'apertura per questo ultimo incontro, caro Don Lucio. Cari radioascoltatori, come ormai sono tanti gli incontri in cui ci sentiamo, concludiamo anche questo incontro con la preghiera di Gesù. Gesù ha voluto che questa fosse la preghiera con la quale rapportarci con Dio Padre. Allora tutti insieme diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Caro Don Lucio, la parola per questo ultimo incontro, la parola del cuore che abbiamo scelto, è la parola lavoro. Non l'abbiamo mai affrontata adesso, l'affrontiamo con un approfondimento molto particolare, ovvero il lavoro cos'è? È il modo di occupare tempo nel fare qualcosa di produttivo, traendone un vantaggio generalmente economico. Da Wikipedia, testualmente, attività produttiva dunque che implica la messa in atto di conoscenze rigorose e metodiche, intellettuali e o manuali, per produrre e dispensare i beni e i servizi in campo di compenso monetario o meno. Allora siamo a Pescara, città di mare, dove il mare appunto ha consentito ai suoi abitanti possibilità di lavoro che il nostro ospite straordinario Gianfranco D'Antonio ha interpretato in modo completo, con una iniziativa di pesca individuale. Abbiamo qui e quindi in presenza Gianfranco D'Antonio che salutiamo. Buongiorno a voi tutti. Grazie Gianfranco. Il mare, per te Gianfranco, è un luogo di grande fascino, prima ancora, che di impegno e di lavoro. E lo si capisce da tutte le foto che tu pubblica di tanto in tanto sul tuo profilo personale Facebook. Siamo veramente attratti da quelle fotografie, sono veramente spettacolari. Sono evidentemente degli autentici quadri di autore. Pescara offre sicuramente dei discorsi incredibili, nonostante il piccolo porto fluviale. Si possono contare tantissime attività di pesca. E allora la domanda che facciamo subito direttamente, andiamo subito al punto. Come nasce l'amore per il mare e la passione per un lavoro impegnativo davvero difficile, se non impossibile, di questi tempi, caro Gianfranco? Allora, niente, l'amore del mare nasce molto semplicemente. Questa è tramandata da mio nonno, mio padre. Purtroppo è un lavoro che o si fa così o non si fa. Lo devi avere nel sangue, come si vuol dire. E niente, io fin da piccolo, 12 anni, 13 anni, 14 anni, nonostante andava a scuola, ma durante il periodo estivo, Gianfranco dove andava? In mare con il padre. E quindi ero un bambino, cioè avevo la testa altrove magari a divertirmi. Però questo è servuto moltissimo, cioè mi ha forgiato nell'uomo con la U maiuscola che sono. Cioè inizialmente mi ha insegnato tanto educazione, rispetto e mi ha fatto capire tantissime cose che purtroppo i ragazzi di oggi niente da fare. È inutile imboccargli col cucchiaino, ma niente. E quindi questa passione è andata avanti. È andata avanti, ho terminato il nautico, perché poi mi piaceva e quindi ho pensato che la mia strada sarebbe stata sicuramente quella. E quindi da 17 anni che sono uscito dal nautico, ho messo i piedi a bordo e ce l'ho ancora a bordo. Quindi sono le bellezze di 40 anni. E niente, è un lavoro sacrificato che purtroppo adesso sta dando pochi frutti. Però siccome tu c'hai la passione e quindi la porti avanti, nonostante è diventato come un odio, amore. Odio che non lo vorresti fare più, però amore che lo fai perché ti piace e comunque lo faccio, lo farò fino a quando avrò la forza. Speriamo che Dio me la mandi, più tanta possibile. Quindi da questa cosa deriva la passione del mare. Cioè una persona normale secondo me non può fare questo lavoro, perché noi siamo, io penso che siamo anormali. Non siamo perché una persona normale, dal mio punto di vista, non ce la potrebbe fare. Ecco, questo penso che sia la risposta alla domanda. Beh, siete dei personaggi straordinari personaggi del mare. Tu ti definisci anormale perché ci vuole veramente grande visione, grandi orizzonti, ma anche capacità tecniche. Quindi lì c'è l'amore. E l'odio purtroppo nasce da quegli aspetti che adesso non approfondiamo perché ci vorrebbe veramente tanto, tanto, tanto tempo. E allora io dico, per raccogliere qualche parola di quello che ci ha comunicato Gianfranco, manderemo subito il primo brano. Il brano dal titolo Una goccia del mare, dall'album Rallegrati della compagnia Acquero. Il testo racconta molte cose, ma io estraggo qualche parola. Una goccia del mare ti chiedo, che disseti come rugiada. E quindi sentiamo un po' che di cosa si tratta. Tu che per nome chiavi tutte le stelle Tu che raccogli ogni nostro segreto sospiro Non mi abbandonare Non mi lasciare nell'ombra del cuore E da te io verrò Una goccia del mare ti chiedo E disseti come rugiada Dammi solo una goccia del mare Dell'infinita sapienza tua Tu che hai creato il calice dell'universo Tu che per gli uomini hai preparato una casa Non mi abbandonare Non mi lasciare nell'ombra del cuore E da te io verrò Una goccia del mare ti chiedo E allora Don Lucio, una goccia del mare Adesso tocca a te, quindi, indagare questo brano Della compagnia Acquero che ho conosciuto da poco Dice il testo Dammi solo una goccia del mare Dell'infinita sapienza tua Parolone grossi Sicuramente il mare Il nostro mare è piccolino L'Adriatico, no? Però pensate che Gli apostoli di Gesù Che in gran parte erano marinai Chiamavano mare il lago di Galilea E se voi lo vedete È un lago piccolino Non è un lago grande Però chiamavano mare Avevano una passione particolare Per il loro lavoro E come diceva Gianfranco Veramente Di padre in figlio Quando Gesù li chiamano Specificano all'Evangelista Che erano figli del padre Zebedeo si chiama Un uomo particolare Quindi hanno lasciato tutto, no? Capisco Quando Gianfranco parlava Che è una passione Che Se posta quelle foto Se ha questa passione Che si capisce Pure da come parla, no? Vuol dire che proprio Non gli piace Che forse economicamente Non sia Non gli dia tutti quei frutti Che è talmente Motivato Talmente Gli piace Sto mestiere Che Dispiace, no? Che ci possono essere tante persone Che A fare questo Questo lavoro E poi Una cosa Una cosa bella Ho detto che Gesù li chiama là Li chiama Mentre stanno lavorando Quindi Vuol dire che Una cosa che non Di cui ci dobbiamo preoccupare Il Signore ti chiama dove stai Ti chiama dove lavori Come Come penso Tutte le persone Che sono state chiamate dal Signore Avevano altro a cui pensare Quindi la chiamata È sul posto dei lavori Io non facevo il marinaio Facevo l'operaio L'operaio Una quindigina d'anni L'ho fatta E là mi ha chiamato E guardate Quando uno Vive La volontà di Dio Cerca di fare del bene Cerca di produrre Come diceva Prima Nanda Da Wikipedia Cerca di fare il bene Cerca di produrre E si realizza Personalmente E adatto Per fare Per fare il sacerdote Per fare colui Che porta la parola di Gesù Gesù sicuramente Non vuole E' deluso Dagli scansa fatiche Quindi La prima vocazione È essere chiaro Che a te ti piace Ti piace lavorare Ti piace impegnarti Ti piace fare il bene E dopo il Signore ti chiama Lì dentro ci puntata Anche la vocazione Bella riflessione Caro Don Lucio Comunque Noi abruzzesi Si sa Non abbiamo cultura Del mare Come tanti altri Popoli costieri Come quello inglese Francese Comunque possiamo Contare su flotte Davvero Originali Ed organizzate Anche quei pescare Giusto Gianfranco Ne parlavamo prima C'è tanta collaborazione Tant'amicizia Armonia Intesa Consonanze Unica a dire il vero Una sorta di fratellanza Del mare Di profondo legame Allora andiamo al punto Caro Gianfranco Sono anni che vivi nel mare Ed esperienze Ne hai vissute tantissime Una quarantina d'anni Con la tua Ornello II La tua imbarcazione No, proprio con quella Prima La barcha più grande Poi questa È venuta dopo È venuta dopo Allora Dico io Puoi raccontarci Sicuramente Di eventi Che hanno messo in luce Aspetti di bellezza Umana Vissuti Personalmente Esattamente Me ne sale uno in mente Era l'86 Più o meno Che abbiamo tratto in salvo Un peschereccio In difficoltà Quella situazione Poi ripensando Perché dopo Mi ha segnato molto E mi ha fatto capire Cioè Che persone siamo Ripeto Come prima Che non siamo normali Nel senso C'è la fratellanza Che può succedere in mare Anche magari Se tu con quella persona C'hai un attrito Può succedere In mare Non esiste In mare Quell'attrito Non esiste Quindi siamo tutti fratelli Infatti Gli abbiamo salvato La vita E ricordo ancora L'espressione Dell'equipaggio A bordo Erano isperati Lo sguardo Perso nel vuoto Però Nonostante tutta La nostra testardaggine Ecco la mano di Dio Pure Perché quella volta Siamo stati pure Forse aiutati Da qualcuno E siamo riusciti A trarre In salvo Sia il capitale Che cinque persone Di equipaggio Il lavoro È stato tantissimo Perché In condizioni meteo Allucinanti Onde di tre Quattro metri Ci è andata bene Abbiamo fatto proprio Un bel lavoro E quindi Quella Quella situazione Proprio Mi ha fatto capire Tante cose E mi ha segnato Nel senso che Lo porta ancora Nel bagaglio Nel bagaglio Perché tu devi C'è sempre Da imparare E quella è stata Una cosa bella Avevi vent'anni Eri giovanissimo Sì avevo vent'anni Avevo Per dieci volte La forza di adesso Non è che adesso Che mi manca Adesso c'ho otto Prima tenevi dieci Ma Ma va bene lo stesso E quindi Quella è stata Proprio Una bella emozione E noi felici Di aver fatto Non un'ottima azione Molto di più Che poi È stata Ricompensata Anche in parte Va bene Ma quello non ci interessa Ma la nostra Come posso dire L'obiettivo L'equipaggio L'obiettivo L'equipaggio Con tutto il capitale E siete riusciti a farlo Siamo riusciti a farlo Come sempre E questa è stata Una bella cosa È una bella esperienza Davvero Gianfranco Quindi Che ti è rimasta Sicuramente nella mente Ti ha segnato Lo ricordo come se fosse adesso Pur se sono passati Tanti anni Mi ricordo Tutti i momenti Tutti i momenti Mi ricordo Molto bene Intanto Chiedo la regia Brano strumentale In modo tale Che riusciamo A digerire A capire In profondità L'esperienza Che ci ha trasmesso Gianfranco Il titolo è Non un solo istante Sempre dall'album Rallegrati Della compagnia Aquero Uno strumentale L'amore che Dalla tua croce Scende su di noi Trasformerà La nostra vita E ci salverà La nostra vita E ci salverà La nostra vita La nostra vita E ci salverà La nostra vita Allora, un brano musicale che ci ha aiutato, ha aiutato sicuramente anche il radioascoltatore. Per amore, solo per amore, dice il commento a questo brano, Trafitto, percorso, uomo dei dolori, tu. Caro Don Lucio, mentre Gianvranco parlava di questa esperienza unica che ha avuto, non è che tutti quanti possono dire, guarda, anche io ho salvato delle persone, zbo di queste, quindi veramente questa esperienza unica mi veniva in mente, da come parlava, due volte l'ha detto, no? Noi volevamo salvare quelle persone, ok? E poi la concretezza, volevamo salvare il capitale, cioè la barca, perché se non salvi le persone, però che fanno dopo queste persone, no? Quindi salvare il capitale, la concretezza dell'uomo che sta in mare, no? La concretezza che tutti quanti dovremmo avere, noi alla fine Gesù dice che verremo giudicati per quanto abbiamo amato. Un giorno, concludo, diceva Mare Teresa di Calcutta, che ormai era sulla fase declinante della sua vita, era tutta intubata, era maggio, lei è morta poi a settembre del 97, ebbene un sacerdote gli chiede, Mare Teresa dicevi, io devo andare là, devo fare questo, devo organizzare qua, un sacerdote gli disse, ma sì, ma ripositi, no? E quella la guardate, finché ho un solo respiro, io cercherò di fare il bene, perché quando mi presento davanti al Signore, mi devo presentare con la valigia della carità piena, cioè io devo aprire questa valigia, e questa valigia deve essere piena di opere buone. E poi gli disse, e tu ti stai preoccupando di arrivare alla fine con questa valigia piena, quindi la concretezza nel fare il bene, la concretezza dell'amore, insomma. Una biblioteca inesauribile, Madre Teresa di Calcutta, che tu ami tanto, Don Lucio, vedo che la citi spesso, e ricorre nei tuoi discorsi. Comunque siamo arrivati alla fine, dovremmo inaugurare qualche altro programma per indagare i messaggi di quel santo così vicino a noi, perché Madre Teresa veramente è vicino a noi. Quindi, giungendo il termine, vogliamo offrire qualche motivo di riflessione e lasciare qualche utile messaggio ai radioascoltatori. Abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di pesca, e la pesca è un settore in crisi. E non solo per leggi enorme, che sappiamo sono asfissianti, a volte rendono proprio il lavoro impossibile, possiamo parlarne in lungo e largo. Però noi dobbiamo chiudere, quindi offriamo a Gianfranco uno spazio per lanciare un messaggio. Cosa si può raccogliere dunque dal mondo di questo lavoro? Quale speranza proviene dal mondo del mare? Bella domanda, allora. Purtroppo in questa domanda sono molto pessimista, perché, come diceva Nando, le restrizioni che ci hanno messe non se ne può più. Noi non possiamo più lavorare, e quello non si può fare, quello c'è niente. Noi ci hanno legato le mani, in poco parole, ci hanno messo dentro una gabbia, e così non si può lavorare più. Poi, carenza di personale. Purtroppo questo lavoro nessuno lo vuole fare più. Adesso li dobbiamo anche ringraziare, gli extracomunitari, che sono presenti da due a tre su ogni barca. Ad esempio, io ne ho due a bordo, culture diverse. Tu poi ti devi anche capire il loro modo di fare, di mangiare addirittura. Cioè, sono due culture diverse. Però, purtroppo, noi ci dobbiamo adeguare anche a questa cosa. E secondo me, io forse sono l'ultima generazione. Penso che dopo la mia generazione, cioè, non vedo il ricambio. Io non vedo un ragazzo di vent'anni a bordo, ti dice, vai, vai, fattolo tu sto lavoro. Non sono all'altezza e forgiati per fare questo tipo di lavoro. A me mi hanno forgiato quando tenevi 12, 13, 14, 15 anni. E ringrazio ancora mio padre che sta nel mondo della verità per quello che ha fatto. E gli posso assicurare che ha fatto proprio un bel lavoro. Cioè, sarebbe proprio fiero di me. Lo posso dire anche a urlare. E poi, speranza. Non lo so, la speranza, ripeto, l'ho detto prima, secondo me è diventato un lavoro a perdere. Non ci sta nessuno che ci rappresenta come dovrebbe. Poi, per non parlare, perché se poi inizi a parlare, poi può assicurare che mi vengano a arrestare. Nel senso, quindi è meglio che ci fermiamo. Diciamo che sono molto pessimista. Nonostante ciò, che diciamo che io sono quasi arrivato. Io, se Dio vuole, fra due anni, se ci arrivo, finisco definitivamente di fare questo lavoro. Sicuramente sarà dura per me, perché ormai il mio cuore è là. Però, purtroppo, lo dovrò fare, perché non ci hanno dato più spazio, non ci hanno dato più speranza. Ci lanciano le frecciate da tutte le parti. E quindi, tanti auguri per chi resta. Ma non so fino a che punto. Veramente triste ascoltare le parole di Gianfranco. Gianfranco, sembra veramente che manchi un sostegno. E quindi lanciamo noi di Radio Speranza un appello, ovviamente, a chi di dovere, alle istituzioni, a quanti si devono impegnare. Perché se sono a servizio, lo devono assolutamente fare a 360 gradi. È un mondo, da quello che riesco a comprendere, che andrà a scomparire, se è così, come sta descrivendo Gianfranco. Una speranza, credo che ci sia sempre, però, insomma, ecco, lanciamo questo messaggio. Non so se ti interrompo, perché dalle previsioni nel 2030 vogliono abolire la pesca a strascico. Cioè, la pesca che faccio io. Entro il 2030 faranno di tutto. Non è che ti dicono oggi chiudiamo. Faranno di tutto, ti metteranno in condizioni che tu piano piano abbandoni. Quindi un'azione veramente terribile, un'azione di pressione, un'azione che noi vogliamo scongiurare, evidentemente. Intanto ringraziamo Gianfranco per aver accettato il nostro invito. Siamo veramente felici di questa testimonianza molto profonda, molto vera, molto cruda. Disegna appunto un mondo nuovo per noi, ma crudo, vero, che esprime una fatica pazzesca. E allora lui paventa un riposo, evidentemente, quindi fra qualche anno. Ma è chiaro che il mondo va tutelato e va tutelato nei modi come bisogna effettivamente fare. Caro Don Lucio, a te aspetta una dichiarazione, quella più bella che viene dal cuore, quella spirituale. Chiediamo la benedizione di Dio su questa storia, la storia di Gianfranco e sulla storia di tante persone che vivono con questo lavoro da sempre, no? Che il Signore possa benedire voi, il vostro lavoro, le vostre famiglie e voi cari radioascoltatori. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.